Salve a tutti ragazzi, sono Zetawillix e no, oggi la Rockstar non ha rilasciato nemmeno un'auto. Della serie, ma sì, mi importa una sega. Dopo il fail di venerdì facciamo uscire solo le gare stante del DLC Doomsday Ice, così saranno tutti contenti. E purtroppo ho paura che le prossime auto usciranno solo tra due settimane, essendo che abbiamo ricevuto comunque le nove gare stante con i veicoli del DLC Doomsday Ice. Ci tengo a precisare comunque che sono contento riguardo il fatto che il supporto Rockstar abbia risposto alle richieste dei giocatori che hanno subito il bug dei veicoli venerdì, dove questi hanno speso milioni di dollari per acquistare i veicoli, modificarli e poi ritrovarsi sia ai milioni scomparsi che i veicoli eliminati dal proprio garage. Credevo che Rockstar ignorasse pure queste richieste dato che hanno ignorato veramente un sacco di persone che sono state bannate ingiustamente su GTA 5 online per PC. E invece questa volta no. Grazie mille Rockstar. E ragazzi, se avete subito questo bug venerdì ma non avete fatto ancora richiesta al supporto Rockstar Games per farvi restituire i milioni spesi, vi raccomando fatelo subito, vi lascerò il link del supporto Rockstar italiano nella descrizione di questo video. Entro qualche ora dovrebbero rispondervi. Ora non lo so però penso che sia così dato che hanno rimborsato un sacco di persone in pochissimo tempo dal bug di venerdì. Oggi comunque Rockstar tra le gare stunt ha rilasciato 4 gare con la Deluxo, 3 gare con la Stromberg e 3 gare con il Jetpack. Sono tutti sparsi tra le gare stunt quindi dovete scorrere un po' per trovarle se non riuscite a trovare sia le gare della Stromberg che le gare con il Traster. Fatemi sapere votando il suddaggio in alto a destra se vorreste vedere dei gameplay su queste nuove gare o meno. Sono molto indeciso se portarle oppure no quindi fatemi sapere votando onestamente. E se votate no tranquilli che non mi offendo anzi vi ringrazio perché siete stati comunque onesti con me. Sono del parere che uno spettatore su YouTube è liberissimo di seguire qualsiasi video lui voglia su YouTube. Se in un video faccio poche visual sicuramente la colpa non è vostra ma in parte colpa mia. Magari ci sono anche delle eccezioni in cui YouTube fa delle cazzate ma quello è un discorso a parte. Detto questo ho provato queste nuove gare e ma non mi fanno né caldo né freddo. Non sono così divertenti come speravo ecco. Una giunta carina ma secondo me sarebbe stato meglio ricevere le nuove auto insieme piuttosto che solo questa giunta o comunque trovare un altro modo per sfruttare meglio questi veicoli perché se utilizzati solo per creare delle semplici gare non è che sia tutto sto granché. Peccato davvero adesso per le nuove auto credo che dovremmo aspettare probabilmente uno o peggio ancora due settimane. Parlando dei bonus doppio guadagno dollari ed RP che durerà fino alla mattina di martedì 8 maggio abbiamo il bonus doppio guadagno sulle nuove gare che pagano pochissimo se non arrivate primi pure con il bonus. Uno schifo proprio. E la maggior parte delle gare vengono giocate con i veicoli personalizzati che non tutti possono permettersi. Poi abbiamo il doppio guadagno di dollari ed RP sulle emissioni dei veicoli speciali del DLC import export che potete avviare da una sessione pubblica con il computer dell'ufficio CEO oppure aprendo il telefono poi partita veloce emissioni per veicoli speciali. E a mal in cuore pagano anche queste male. Secondo me sono utili solo per sbloccare gli sconti dei veicoli speciali. Ma ormai penso al tempo stesso che l'unico veicolo speciale import export decente sia la Rainer 2000 ma non di più. Se volete provare a fare 50-2000 dollari la prova a tempo di questa settimana si trova in questo punto della mappa gli sconti sono credo la cosa più decente che abbiamo visto oggi. Gli sconti che personalmente consiglio di sfruttare che dureranno sempre fino al prossimo martedì sono il 25% sulla Deluxo, sul Jetpack, sulla Stromberg e sulla Rainer 2000. Il resto degli sconti lasciate stare si trattano di veicoli che fanno abbastanza cagare. Riguardo gli sconti segreti che possono ottenere solo una parte dei giocatori di GTA Online abbiamo solo il 30% su tutte le basi operative. Quindi niente ragazzi se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollice in su, fatemi sapere cosa ne pensate tra i commenti di queste nuove gare. Inoltre iscrivetevi al canale per altri contenuti. Da ZWX è tutto, noi ci sentiamo al prossimo video!